Siamo in Radici Group, produttore di Engineering Polymers e parliamo di sostenibilità. Venite con me. Che cos'è Renacol e come si ottiene? Renacol è la nuova gamma di prodotti sostenibili tecnopolimeri a base poliammide riciclati, facenti uso di risorse post industrial e post consumer provenienti dal gruppo Radici. Il basso impatto ambientale e le performance tecniche sono calcolate mediante l'approccio LCA, Life Cycle Assessment. Quindi il processo di recupero della poliammide, poliammide 6 e 6.6, fa uso delle risorse provenienti dal gruppo Radici, essendo quest'ultimo un gruppo integrato e parallelamente a questo abbiamo introdotto recentemente anche il recupero dei materiali post consumer, sempre a base nylon poliammide. Sostenibilità senza compromessi per le performance richieste dell'applicazione, corretto? Sì, esattamente. In particolare Renacol fa uso delle risorse, ma anche del know-how della nostra R&D, che, tenendo conto delle performance richieste dalle applicazioni finali, fa sì che le performance della materia prima, e quindi poi del prodotto finito siano adeguate alle aspettative dei clienti. In quali settori si può usare Renacol? Fondamentalmente moltissimi, sicuramente l'automotive, industrial e consumer goods, elettrico e elettronico. Ad esempio abbiamo sviluppato delle applicazioni come delle prese, delle spine per le mobility, ad esempio, ma anche oggetti di uso e consumo di tutti i giorni, fondamentalmente. Chi sceglie Renacol e soprattutto perché? Tutti dovrebbero scegliere Renacol per contribuire alla neutralità climatica, riducendo l'impatto ambientale delle proprie applicazioni. Così facendo si contribuisce, attraverso il lavoro lungo tutta la filiera, all'economia circolare.